Anche il Roseto degli Abruzzi insieme a tutti gli altri comuni della costa Terramana ha ricevuto la bandiera blu, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE che premia le località turistiche balneari che soddisfano criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione e ai servizi offerti. Un'importante riconferma che apre le porte ad un'estate ricca di eventi. È stato uno dei miei primi atti insediato a lavorare con gli uffici perché si parte da ottobre e novembre per riuscire a dare tutti quei parametri che permettono poi ai comuni di ottenere questo prestigioso e importante riconoscimento. Ma come ho voluto sottolineare l'importanza non è solo che Roseto ha ottenuto la bandiera blu ma che le sette sorelle della provincia di Terramo hanno ottenuto contestualmente la bandiera blu, cosa che non avveniva da anni, cosa che permette al brand Abruzzo e in questo caso provincia di Terramo di essere venduto in maniera molto forte all'esterno. Il turismo per me deve essere una rete, per noi deve essere una rete e siamo davvero soddisfatti di poter lavorare in sinergia per essere attraenti e attrattivi. Roseto ma direi tutta la provincia. Ma ad accendere la bagarre politica all'interno del Consiglio Comunale è stata l'ordinanza del Tarrabruzzo che ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dall'opposizione e da alcuni operatori a seguito della decisione dell'amministrazione comunale di estendere l'applicazione della tassa di soggiorno da tre a sette mesi. Leggo, anche sorridendo, grida di vittoria da parte di una minoranza che a mio avviso deve capire da che parte sta, centro-destra, ginobliani, non capisco. Io entro nella sostanza. Nella sostanza so che turisti e albergatori non hanno visto, diciamo, in maniera negativa, anzi si hanno accolto in maniera positiva questi primi mesi di imposte di soggiorno grazie agli eventi che abbiamo già portato a Roseto e cosa che avevamo promesso. Inoltre, questa è una sospensiva. Il giudice non è entrato nel merito, sul quale si pronuncerà più avanti e quindi noi all'interno di quello che è un processo legale faremo di tutto a che invece questa situazione non si modifichi. Insomma, credo che cantare vittoria prima del tempo sia soprattutto un pochino superficiale. Che estate sarà per Roseto? Sarà un'estate top perché sarà un'estate in cui commercianti, balneatori, albergatori, associazioni, nel sito Roseto eventi che abbiamo inaugurato prima di Pasqua, anche questa è una grande novità dell'amministrazione Nugnes. Oggi, in tempo reale, i turisti e i cittadini di Roseto, ma anche della zona, diciamo, limitrofa, possono sapere cosa c'è all'interno del programma cittadino che è in evoluzione. Insomma, un'estate attraente e attrattiva. Sono due termini che mi piacciono e che faremo diventare reali.